Orazione a Gesù Crucifisso da recitare tutto il mese di novembre. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Eccomi, o mio amato e buon Gesù, che alla Santissima tua presenza, prostrato, ti prego, col fervore più vivo, di stampare nel mio cuore sentimenti di fede, di speranza, di carità e di dolore dei miei peccati, e di proponimento di non più offenderti, mentre io, con tutto l'amore e con tutta la compassione, vado considerando le tue cinque piaghe, Cominciando da ciò che disse di te, o Gesù mio, il santo profeta Davide, hanno trafitto le mie mani e i miei piedi, hanno contato tutte le mie ossa. Chi dopo la comunione reciterà con cuore contrito e con spirito di devozione la predetta orazione, dinanzi a qualunque immagine di Gesù Crucifisso, Pregandolo per i bisogni della Santa Chiesa, potrà conseguire l'indulgenza plenaria. Santo Protettore Tutti i Santi Santa Caterina Vergine e Martire Oppure Sant'Andrea Apostolo Sia fatta, lodata, in eterna esaltata, la giustissima, altissima e amabilissima volontà di Dio in tutte le cose. Firtù da praticare La pazienza Sette novembre Le indulgenze Tesoro delle indulgenze Gesù, che avrebbe potuto, con una goccia sola di sangue, riscattare i milioni di mondi, lo versò tutto con sovrabbondanza di grazia e di merito. Tale sovrabbondanza inesauribile, perché è infinita e che scatorisce dei meriti della vita, della passione e della morte di Gesù, a cui egli volle associare i meriti di Maria e degli altri Santi, forma un immenso tesoro spirituale di cui la Chiesa può disporre per le anime nostre. Preziosità Una plenaria può liberarti da anni di purgatorio, una plenaria può rimetterti tutta la pena, e questa, applicata a un'anima purgante, può pagarle tutto il debito. Sarai dunque indifferente a guadagnarne molte? Condizioni per le indulgenze Considera in questi tre punti quanto devi essere attento per adempere alle dovute condizioni per l'acquisto delle indulgenze, al fine di non perdere un tesoro così facile. Primo Essere in stato di grazia Secondo Avere l'intenzione attuale o abituale di guadagnare le indulgenze Terzo Adempere con fervore, ed esattamente, le opere prescritte da chi accorda le indulgenze Esamina se ti attieni a queste norme Abbi sempre l'intenzione di guadagnarne quante più puoi Pratica del giorno Recita gli atti di fede, speranze e carità Applica nell'indulgenza che è di sette anni e sette quarantene alle anime purganti Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen